Il mondo dello sport ormai naviga a vista, il futuro sembra sempre più incerto, a fare il punto della situazione dopo l'ulteriore chiusura arrivata con il PCM firmato dal governo e il maestro Domenico Saccone della Freedom Fitness di Avellino. Un punto interrogativo perché sinceramente non sappiamo che succede con questa pandemia, è una confusione in sostanza perché non ti fanno capire niente di chi dice due cose, chi dice un altro, chi dice che esce il vaccino, chi dice che non è ancora fattibile. E' difficile capire il futuro, che futuro troviamo. Il governo nei giorni scorsi ha annunciato dei ristori, possono realmente aiutarvi? Il ristoro poi sinceramente non sappiamo se nemmeno a quanto ce li danno, se ce li danno, hanno detto che ce li davano, però poi alla fine dobbiamo vedere se è così o no. E poi fino a quando, perché se le palestre rimangono chiuse per altri mesi, non so se questi ogni mese ci erano questi confezionamenti che ci vogliono dare. Cosa dice se allievi in questo momento in cui non ci si può allenare in palestra? Fermarsi e anche fare qualche esercizio a casa, a corpo libero, un po' di tecnica davanti allo specchio, lo possono fare tranquillamente, tanto serve un metro quadrato per fare un po' di tecnica davanti allo specchio.